Dalla Turchia all'Italia Quando io ero un ragazzo del liceo ero aggressivo a questa labbia, la trasformavo in maniera in ammortazione, in ammortizione, in determinazione. Quando studiavo del liceo uscivo poco durante gli intervalli, in generale in classe, ma mi ricordo che mi aveva dato una spallata, volevo tornare indietro, volevo reagire in maniera violenta. Io non so perché, perché i suoi secondi mi sono sfratti, io ho avuto questo plecatto, ho visto le vicende, mi sono proiettato nel futuro, ho visto tutte queste conseguenze che potrebbero accadere, essere poco caldo a prendere, spiegarsi, essere caldo a prendere, l'aspirato a prendere questo sospeso. Ho detto, la mia vita vale molto di questo strumento. Andare via con eleganza, con un sorriso, non fare nulla e poi plasmarsi, costruirsi. le lacrime possono scendere, ma si possono anche asciugare.